Perché ad ottobre non saremo chiamati a scegliere tra diverse riforme costituzionali. Non ci verrà chiesto se è migliore la mia, la sua, la tua riforma costituzionale, ma l'attuale Costituzione ci chiede semplicemente, con un referendum confermativo, se l'attuale riforma approvata dal Parlamento è un po' migliore o un po' peggiore di quella che è già esistente. Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Per cui, anche se c'è qualche cosa che può non piacerci, l'importante è farne una valutazione comprensiva. Se è un po' migliore, votiamo sì. Migliore per che? Migliore per la nazione, per l'Italia sicuramente. Migliore per quelli. Ha parlato? Pierfaolo Mega, sono il coordinatore dei comitati per il Sì del territorio, dell'Unione territoriale di Mola. Grazie.